Yeah, White Chicken Studios, Funky Pain, 2K16, Rappers in faccia, casi strani Q Rappers in faccia, riffs, toma sul beat, è un rifornimento, pensi faccia a beef, prendi sto riff, è un riferimento Se resti anonimo e vuoi rifugiarti, perché sei un giovane tossico, c'è ancora tempo per rifarti Vuoi farti avanti? Dai, non ci hai riflettuto, cerchi tanti palchi online, online sei un rifiuto Fai, verso l'amore fin quando ritorna l'odio, rifatti un futuro migliore ma in un riformatorio Rifocilarsi di alcolici non rinfresca, come essere autonomi e campare di luce riflessa Rifilo ruffili, una stupida, aspetta una riflessione, non recuperi, deviati effetto riflazione Non sto sotto un riflettore, non firmarmi fra persone presuntuose, io cerco di riformarmi o di informarmi Prima di leggere resti in peace, mi riformisco, darmi, non darmi per morto come lì, troppo tardi Che simple Grazie a tutti Grazie a tutti